Un cartellone con 68 appuntamenti che si snoderà fino alla metà di luglio per rilanciare e animare i 23 comuni del cratere sismico 2016-2017. Abruzzo dal vivo è il festival della voglia di rinascere, della forza degli abruzzesi, della potenza della cultura come strumento di aggregazione e di crescita. Il programma è stato presentato questa mattina nella sede di Pescara della Regione, dal consigliere regionale delegato alla cultura Luciano Monticelli, dall'assessore al turismo Giorgio D'Ignazio, dal sindaco di Cronialeto, comune capofilla dell'iniziativa e dal direttore del Dipartimento Turismo Francesco Di Filippo. Il progetto prende vita grazie al finanziamento di 760 mila euro stanziati dal MIBACT e deliberati dalla Regione Abruzzo per realizzare spettacoli dal vivo e grandi eventi nei centri colpiti dal sisma. Hanno collaborato l'AXA Abruzzo Circuito Spettacolo, l'Associazione Culturale e Artistica Ivan Graziani Pigro, l'Associazione Emotion Gruppo Fenix, i Solisti Aquilani, Cinema Musica Nova, l'Istituto Internazionale Teatro del Mediterraneo, il Teatro Stabile d'Abruzzo e la Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli. Monticelli ha sottolineato la sinergia che la Rete dei Comuni è riuscita a realizzare e la valenza di un calendario che punta a far scoprire luoghi simbolo del nostro Abruzzo attraverso un programma che prevede concerti, spettacoli, mostre e laboratori anche per i più piccoli. Tra gli ospiti del Festival ci sono Skin, Francesco De Gregori, i Modena City Ramblers, Alessandro Haber, Francesca Reggiani, Enzo Avitabile, Peppe Servillo, Gio Sada. Per l'Assessore D'Ignazio, il tanto lavoro e la grande collaborazione dei sindaci hanno consentito la realizzazione di un progetto così ambizioso.